Insieme per contribuire al bene comune, da oggi 1 settembre inizia il mandato di direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, che è nostro ospite. Buon pomeriggio direttore, allora da oggi ufficialmente direttore, ma in realtà è iniziato già a lavorare. Sappiamo che come Caritas vi state occupando anche dei rifugiati afghani che sono arrivati, un migliaio quelli accolti nella nostra regione, 87 quelli attesi in Sardegna. C'è un lavoro di sinergia tra protezione civile e Caritas. Oggi a Roma c'è stata una riunione operativa, che cosa è stato deciso? Anzitutto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Dall'incontro è emerso appunto che sono poco meno di mille le persone già ospitate. Il tema centrale è che stiamo parlando soprattutto di nuclei familiari, peraltro piuttosto numerosi, con diversi minori, con diversi quindi bambini. L'esigenza primaria è anzitutto quindi quello di avere appartamenti o mini appartamenti per poter accogliere questa persona. Come Caritas noi abbiamo confermato la nostra disponibilità. Stiamo già raccogliendo da parte soprattutto di alcune comunità parrocchiali la loro disponibilità. L'8 settembre e mercoledì dalle 21 alle 22, raccogliendo un invito del Santo Padre, Papa Francesco, organizzeremo nelle parrocchie della Diocese di Roma un momento di preghiera e anche una colletta. Le persone che quindi rinunceranno al proprio pasto potranno devolverlo in quell'occasione. Come Fondazione Caritas attiveremo anche il nostro conto corrente perché ci sono molte esigenze a cui dover far fronte. Abbiamo chiesto anche alla Prefettura un tempestivo coinvolgimento dell'ufficio scolastico perché poi questi minori avranno esigenza anche di non perdere completamente il contatto con l'ambiente scolastico. Ecco, la Caritas è chiamata in questa epoca, segnata dal Covid, a rispondere a diverse esigenze. Di oggi la notizia di un bimbo di 11 anni che ha denunciato la mamma perché lo costringeva a chiedere le lemosine. Ecco, come cambia la povertà nel dopo Covid? C'è un'accentuazione di alcuna povertà che purtroppo a Roma sono presenti da molti anni. Ne segnalo tre. La prima è quella dell'abitare, che è un qualcosa di più della casa. Noi abbiamo a Roma decine di migliaia di case vuote senza famiglie e decine di migliaia di famiglie senza casa. Poi abbiamo circa 9.000 persone che proprio sono senza tetto, quindi il problema è molto complesso. Il secondo è quello del lavoro, o meglio del lavoro nero. Il lavoro nero unifica la città, dal centro alla periferia. Tante piccole ragioni producono un grande torto nei confronti di decine di migliaia di lavoratori che lavorano in condizioni non più sostenibili o tollerabili. Poi naturalmente c'è il problema del lavoro che manca. Terza grande, non emergenza, ma dato strutturale, è la solitudine, la fragilità, soprattutto le persone più anziane. Grazie, grazie a Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma.